Cerco no, mando a Di Maio, dico guardaci a Di Maio, io gli voglio bene a Di Maio, quando l'ho maltrattato e ho detto avete dei problemi di stitichezza, non prendete gutalax, guardate Di Maio, questa cosa ha molto irritato, allora io gli ho chiesto scusa, ma non a lui, ai suoi genitori, perché mi sembrava, questi genitori che poi, dopo l'ho mostrato un aspetto anche un po' discutibile, però mi sembrava che potessero essere più offesi di lui, perché la campagna elettorale, qualunque battuta va bene, ora dire che uno fa cagare, Andiamo avanti Luca